Perché? Perché? Raccontami un po' di te. Perché? Dai, raccontami un po'. Ehm? Ti fa registrare un video? Si? Sei timido? Certo. No, lasciami fare una domanda. Ehm? Di 0 a 100. Quanto mi ami? 200 mila. 200 mila? Per era fino a 100. Allì mi detra passati lì. Batino? Ancora? Basta. Sono... Manca 98 minuti di vita. E voi? Spare un po' di me. Se non si fa la spegnere, eh? Ah, basta, basta. Gravami. 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 Carlin, cosa dici di Bertinoro? E' un bel paizino. Però? Però... Guarda, c'è anche la vita, vedi? Grazie a questo blocco Carlin. Vado a vedere questo. Che anno di vita? Ha detto già non tanto, però era più pieno prima. E questo è basta. E questo è basta. Per guardare. Per guardare, fanno vedere dove i forestieri... Leggono i cavalli. Dove si vedono? Sì. Con la finestra là... Quello lì. La dieta. Il cane. Il cane. Il cane in bastarda. Ma torniamo alle bastarde. Alle bastarde o alle bastarde? Alla bastarda. Perché? Che? Eh? Che l'ho fatto? Rutta, rutta. L'ho stoppato. L'ho stoppato. L'ho stoppato. L'ho stoppato. Come si fa stoppare? L'ho stoppato. Come si fa così? Dove si assicurato sui... Vai dalla scuina. Va da una scuina... Sì. Are... Questo è per esempio tra 1984. redefine le告訴e te... Il sustainable è reale? Cattoli, scuina come nella scuina. Grazie.